Adesso tocca a me vestirmi in tenuta settica per vedere da vicino questo gigante che volerà nello spazio profondo, il Cinius. Il Cinius è un modulo di trasporto merci per la Stazione Spaziale Internazionale. È l'attesissimo pacco da casa per gli astronauti. Eccoci qua, finalmente vediamo un oggetto che prossimamente volerà nello spazio. E lui? Questo è Cinius, o meglio, è la parte pressurizzata di Cinius. È veramente grande? È molto grande, ha un diametro di circa 3 metri e si possono caricare circa 3.000 kg di materiale. E tutto quello che serve anche per la vita giornaliera degli astronauti. Questo particolare sistema viene usato una, due, tre volte all'anno in funzione anche dei programmi, degli altri elementi che contribuiscono a portare i rifornimenti alla stazione.